Oggi i nostri concorrenti sono pronti a fare scintille. Vi do il benvenuto alla Coppa dei Campioni nella leggendaria Super Arena, il luogo dove caos e distruzione sono di casa. E ora è il momento di scatenarci. Ecco, demo derby. Tu e Megarex avete unito la vostra forza bruta e delle mosse da fuori classe e siete riusciti a conquistare il primo posto. Ma dimmi, come avete fatto? È stato facile, amico. Basta solo sfrecciare e distruggere! Mi sembra fantastico! E adesso arriva la nostra autocompa, F5 Alarm, accompagnata dal re del caos, Gangster! È meglio che prendiate un po' di ghiaccio perché stanno arrivando le fiamme! E sta arrivando anche il fango! E vai! Ed ecco la nostra terza squadra a sorpresa. Loro sono gli abitanti originari e i guardiani temerari della nostra Super Arena, Rhino-Mite e Motosaurus! Ed ecco a voi, i futuri vincitori della Coppa dei Campioni. Andiamo, puoi fare di meglio! Esatto, proprio così! Ed eccoci al punto, gente! Le nostre tre squadre sono pronti a confine! E annunciamo la quarta squadra! Tiger Shark! Niente da fare, Tiger Shark! Guarda quel tubo di scappamento! E ora diamo un'occhiata alla prima sfida della Coppa dei Campioni! Wow, è una torre davvero molto alta! Vorrei farla crollare! Aspetta un attimo, amico! Fermo! No, aspetta! Nella nostra prima sfida, i concorrenti dovranno scegliere chi tra di loro si lancerà su questa pompa facendo volare il suo compagno di squadra. Se saranno in grado di fare un bel atterraggio su questo mega ammasso di ferraglia arrugginita, allora passeranno al prossimo round. Ma se non riescono a raggiungerla o la superano, devono tornare al garage perché sono ufficialmente fuori dai giochi. Va bene, voglio essere gentile e darvi subito la possibilità di ritirarvi prima della nostra vittoria schiacciante. Sì, hai detto bene, amico. Ma prima è il momento di rivelare qual è il vantaggio super speciale e segreto che si sono guadagnati Demo Derby e Mega Rex dopo essere arrivati primi al campo d'emolizione. Scommetto che è un jetpack o un lanciarazzi o dei fari laser. Voi due sarete gli ultimi a gareggiare. Gli ultimi? Cosa ne pensi di questo super vantaggio del campo scontri Tiger Shark? La tattica è il mio forte, quindi va benissimo. Così puoi vedere che tipo di errori fanno gli altri. Geniale! Devo dire che sei proprio un grande stratega, Tiger Shark. Posso gareggiare per la Coppa dei Campioni ora? No. E adesso il momento della verità. Chi sarà il lanciatore e chi sarà il lanciato? Bene, amico. Io sono il lanciatore e tu sei il lanciato. Chiaro? Andiamo. Non fare il guastafeste adesso. Con la mia potenza e i tuoi spuntoni aerodinavici vinceremo di sicuro. E adesso... Punta su quella rampa! Non ho ancora capito chi siano questi concorrenti nuovi, ma sembrano dei tipi tosti. È meglio che i nostri amici stiano... Ciao a tutti e bentornati alla Coppa dei Campioni! Siamo rimasti con le due squadre finali e ora scopriremo chi vincerà il trofeo. Ma vediamo come siamo arrivati fino a qui. Demo Derby e Mega Rex! Questi due sono andati alla grande dal primo momento e sembra che niente possa fermarli. Dovranno sfidarsi con la nuova squadra a sorpresa, Rhinomite e Motosaurus. I loro scherzi e la loro forza daranno i loro frutti e vedremo! È dura essere sempre i migliori. Spero che anche gli altri aspirino a diventare come me e il mio grande amico Motosaurus. La prenderemo noi, quella Coppa dei Campioni. Allora, Tiger Shark, siamo alle semifinali. Qual è la tua previsione? Lascia che te lo dica. Sono prontissimo a vedere uno spettacolo super entusiasmante. Lo siamo entrati! Vediamo quale sarà la sfida di oggi. Vi presento Tiger Shark Spin Out! Wow! Ma anche io sono uno squalo tigre! Ogni squadra dovrà scegliere quale Monster Truck lancerà l'altro sulla piattaforma rotante che dovrà colpire il bersaglio. La squadra che ne colpirà di più vince! Si prospetta una sfida davvero incredibile. Mi gira la testa solo a guardare. Rhinomite e Motosaurus, tocca a voi! Forza ragazzi! Beh, il piano è questo. Io colpisco e tu ti lanci sul bersaglio. Badabin, badabun, vinciamo, esultiamo, prendiamo il trofeo. Fatto. Hai capito? È geniale! Dovrei proprio finire in qualche libro. I tuoi spuntoni da dinosauro sono perfetti per la sfida. Andiamo! Devo ammetterlo. I nuovi arrivati sembrano essere dei duri, ma se non collaborano non vinceranno mai. Già, come ha detto lei! Ah, quanto puzzi! Anch'io ti voglio bene, compagna! Sei pronto? Ten, tre, due, uno, via! Tutti i 4 chilometri, guardate che lancio! Motosaurus, stai andando dalla parte sbagliata. Cosa ti avevo detto? Badabin, badabun! Un bersaglio totalizzato per Rhinomite e Motosaurus. E ora, Demo Derby e Megadex. Allora, decidiamo insieme. Chi dovrebbe essere il lanciatore e chi invece è il lanciato? Beh, a me piace colpire. Però mi piace anche lanciare. È impossibile scegliere! Masso paraurti gomma? Masso paraurti gomma! Masso paraurti gomma! Masso, ho vinto! Bella partita! Magorox e Demo Derby vinceranno di sicuro. Ci scommetterai i coprimozzi! Non può fare, ragazzo! Oh, sì! Sono più forte di quanto pensassi! Un lancio meraviglioso! Non posso crederci, gente! Megarex ha colpito il bersaglio! Ce l'abbiamo fatta, amico! Il mio ruggito vi demonirò! Ti copro le spalle, Megarex!